Buonasera ragazze, eccoci qua, eccoci qua, nuovo tutorial insieme, accendo un cicchino e poi parliamo un pochino insieme. Allora, 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 nuovo tutorial, questa volta, dopo tante richieste, finalmente ce l'ho fatta a fare il toro. Allora, il toro, come vedete dalla fotina, ha questi colorini un pochino, diciamo, un pochino autunnali, ma forse anche un pochino, perché no, estivi del sottobosco. Ha questo verde, questo marrone, vedete qua, ha questo, un po', un rosina del cuoricino della magliettina, vedete? E insomma, ho voluto riproporre questo tutorial usando la palette, quella nuova della Mulac. Questa qua, bella vita. Allora, vi presento anche la palette, nel frattempo, così l'analizziamo un pochino insieme, a me è piaciuta molto. Peccato che mi sono arrivati, uno degli ombretti era leggermente spaccato, vabbè, son cose che capitano, non dipende dalla Mulac, dipende dai corrieri che buttano i pacchi a destra, manca. La palette era incartata abbastanza bene con quel nailino lì, con tutte le bollicine, e aveva tutta la velina, in più la scatolina di cartone. Il fatto ha voluto che l'ombretto era un pochino, un po' sbeccato, ecco, mi è dispiaciuto tanto, però, pazienza. Allora, la palette, in sé, per sé si presenta così, quindi, adatta ai colori, appunto, di questo disegno, insomma, di questo fumetto di Elena, di Carota e Cannella, appunto, come vedete i colori, e ve lo lascio qua, insomma. La palette si presenta così, ha il suo, ora, io ho già sporcato tutto, ragazze, so, perché sono una trafalciona. C'ha il suo specchietto, come vedete, bello, grande, la carta di protezione, la carta velina, e ha tutti i colori con i nomini sotto. Ora, i colori, non so se risulteranno un po' sfalsati. Allora, io con nomi, senza occhiali, io non li leggo nemmeno, non ci provo nemmeno. Comunque, se andate nel canale della Sindina, cioè, lei fa l'ottima spiegazione. Io vi volevo solo far vedere gli swatch, che sono spettacolari della prima fila, sono questi qua, guardate che meraviglia, e ve li faccio vedere qua, molto scriventi. Della seconda fila, anche questi, bellissimi, guardate qua. Questi, questi due, con tutti i brillanti, sono spettacolari. E la terza fila. Molto bello questo, mi piace tantissimo. Che sarebbe il Fearless, senza paura forse, vuol dire, ora io l'inglese non sono molto brava. Comunque, ecco, i colori, come vedete, sono abbastanza simili alla figura, appunto, del fumetto di carote e cannella. E quindi ho voluto riproporre proprio questa cosa qua. Allora, ragazze, vi lascio subito al tutorial. Io ringrazio, come sempre, carote e cannella, Elena, per questa bella immagine. Ringrazio voi per aver scelto. Ora siamo veramente agli sgoccioli. Manca veramente poco, ragazze. I colori sono... Io di questa palette sono meravigliose. Mi piacciono tantissimo. Io vi mando un bacione. Noi ci sentiamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, sotto il video, nei commenti. Lasciatemi gli altri tutorial che sono restati, che vi piacerebbe vedere per primi. Naturalmente vi chiedo di mettere un bel pollice in su e di condividere i miei video. Ve lo chiedo in ginocchio, ragazze. Solo così possiamo far crescere il canale. Ciao! Grazie! 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 Grazie!